Buonasera, ultima edizione del nostro telegiornale. Cominciamo subito dalla politica. Il segretario del PD Zingaretti invita la coalizione di governo a replicare il modello anche in vista delle regionali. Sappiamo che il centrodestra ha già individuato i suoi nomi per quello che riguarda Toscana, Puglia e Campania, dove invece i partiti della coalizione vanno in ordine sparso. Non sarà semplice anche perché all'interno della maggioranza i punti di vista diversi su molte questioni sono appunto divergenti. A cominciare dalla RAI per finire al MES il servizio. Per il segretario del PD Nicola Zingaretti il voto per le amministrative parziali del prossimo 20 settembre è un appuntamento cruciale anche per la maggioranza che sostiene il governo Conte. E quindi agli alleati, soprattutto ai 5 Stelle, lancia un appello all'unità. L'obiettivo è avere un unico candidato presidente, almeno in Puglia, dove i pentastellati potrebbero accettare di sostenere l'uscente Dem, Emiliano. Confermo che decidono le regioni, però, spiega Zingaretti, un'alleanza che governa l'Italia o che ha l'ambizione di segnare la prossima elezione del Presidente della Repubblica dovrebbe almeno provare a unirsi nelle regioni. Ma nella maggioranza si apre un altro fronte di polemiche. L'amministratore delegato della RAI, Salini, incontra il Premier Conte per parlare di una riforma della governanza del servizio pubblico. Un faccia a faccia, però, che non piace affatto al PD, che ricorda quanto ritenga fallimentare la gestione della TV pubblica da parte di Salini. Anche Italia Viva definisce gravissimo l'episodio. Il mondo politico italiano poi è alle prese con la tensione che parte dall'intervista della cancelliera Merkel che invita il nostro paese ad usare il fondo Salva Stati. Si tratta di 36 miliardi da spendere per potenziare il nostro servizio sanitario. Conte risponde così alla cancelliera. A far di conto siamo io e Gualtieri, ma i fronti in Parlamento restano divisi sul MES. Il Movimento 5 Stelle continua a dire no quando i suoi alleati di governo la pensano diversamente. E nel centro-destra Forza Italia, contrariamente a quanto sostengono Lega e Fratelli d'Italia, è per il sì al fondo Salva Stati. 8 vittime, 175 nuovi, contagi meno di 100 persone in terapia intensiva. Sono queste le cifre rilasciate oggi dalla Protezione Civile a proposito dell'andamento del Covid-19 nel nostro paese. Cifre che sono molto più che incoraggianti, anche se ci sono ancora, lo sappiamo, nuovi focolaia. Focolaia, macchia di Leopardo, dal Piemonte a Lazio, dalla Liguria a Bologna, proprio qui, in particolare presso la BRT, nota azienda di trasporti e consegne, sono 107 i casi di positività. Va meglio a Mondragone, dove oltre ai 19 che già sono stati posti in quarantena non sono stati trovati altri positivi. Il virus non ha invece smesso di correre negli Stati Uniti, dove i contagi hanno superato i 2 milioni e 500 mila e i morti sono oltre 125 mila. Continua a colpire anche in Brasile e Perù e adesso preoccupa l'andamento in India, paese da 1 miliardo e 300 milioni di abitanti, dove ci sono già oltre 500 mila contagiati. E a proposito di ritorno a scuola dopo la pandemia, sappiamo che ieri sono state presentate le nuove linee guida queste prevedono anche il distanziamento all'interno delle aule e in base a questo, secondo i calcoli, mancano un milione di posti. Proprio per questo la Ministra Azzolina sta pensando di riutilizzare più di 3 mila edifici scolastici che erano stati dismessi. Una promessa per smorzare ogni polemica. Tutti gli studenti avranno un'aula. La Ministra Azzolina all'indomani della conferenza stampa in cui ha presentato le linee guida in vista della ripartenza della scuola il prossimo 14 settembre tenta di fugare ogni dubbio. Un software messo a punto dal Ministero ha calcolato che circa un milione di studenti per via della distanza di almeno un metro tra ciascuno all'unno al momento non ha una classe. Una parte dello spazio verrà recuperata attraverso un rinnovo dell'arredo scolastico, fanno sapere dal Ministero, ma certamente non basterà. Per questo, come annunciato ieri dalla stessa Azzolina, è allo studio il ripristino di alcuni degli oltre 3 mila istituti dismessi, ma per gli studenti potrebbero essere messi a disposizione con la collaborazione degli enti locali a altre strutture per seguire le lezioni, musei, archivi, cinema, teatri, parchi. Insomma, le soluzioni andranno trovate istituto scolastico per istituto scolastico. Anche per questo, nella lettera scritta oggi dalla Ministra dell'Istruzione a tutta la comunità scolastica, si parla di un lavoro che andrà affrontato senza divisioni e con spirito di collaborazione e condivisione. 27 giugno 1980, 40 anni fa la strage di Ustica, 81 le vittime di quel disastro aereo che coinvolse il 19 dell'Itavia. In 40 anni ci sono state inchieste, sia giudiziarie che parlamentari, processi, anche depistaggi, ancora non si è giunti ad una verità giudiziaria di quello che è accaduto quella notte nel cielo tra Ponza e Ustica. Nel giorno della commemorazione delle vittime sono arrivate anche le parole del Presidente della Repubblica, Mattarella. Trovare risposte irrisolutive, giungere ad una ricostruzione piena ed univoca, richiede l'impegno delle istituzioni e l'aperta collaborazione di Paesi alleati con i quali condividiamo valori comuni. L'ipotesi più comune, scartata ormai quella del cedimento strutturale, è che quella sera nei cieli sul Tirreno ci fossero aerei dei Paesi alleati, appunto, americani e francesi. Probabilmente c'erano anche dei libici. E il 19 potrebbe essersi trovato proprio in mezzo ad una battaglia. A proposito della Libia, breve visita del Premier Al Serraji. Oggi a Roma ha incontrato il Presidente del Consiglio Conte al centro dell'incontro l'evolversi dello scontro armato sul terreno, l'esigenza di trovare definitivamente una via diplomatica efficace dopo tanti anni di guerra civile, fino al ritorno in Libia delle imprese italiane, industriali e commerciali costrette a lasciare il Paese dopo la caduta di Gheddafi. 9 anni fa al Serraji ha denunciato la presenza di formazioni paramilitari russe e sudanesi che sono di supporto alle truppe dell'ex generale Haftar e anche a protezione dei siti petroliferi dell'area di Sirte, che è da tempo sotto il controllo di Haftar e per la riconquista della quale le truppe dell'esercito del governo nazionale libico di Serraji si stanno preparando per la battaglia finale. Adesso veniamo al campionato di calcio oggi le partite della ventottesima giornata Cagliari-Torino è finita 4-2 Brescia-Genoa 2-2 e è finita, poi hanno giocato in seconda serata Lazio-Fiorentina vinta dalla Lazio che adesso si porta a meno 4 dalla Juventus-Capolista. Il Ludo è il Brescia che vive come un miraggio e ritorna al successo scomparso ormai da ricembre. Sembra la volta buona contro una diretta concorrente per la salvezza come il Genoa. Alfredo Donnarumma scardina alla porta di Peril. C'è solo una squadra in campo che conquista il raddoppio con l'intuuto di Semprini. Tutto troppo facile con i Liguri che però non crollano e lo stellone si accende con due rigori. Sul primo è impeccabile nell'esecuzione Iago Falke. Nella ripresa il portiere Joronen intuisce Masserenda Pinamonti. In pareggio il Brescia resta inchiodato al fondo della classifica con la spalla. Walter Zenga vissa la vittoria di Ferrara nella sua prima in Sardegna. Nandrez in beata solitudine mette a nudo le fragilità difensive del Torino. Si fa sentire il ritorno di Nainggolan in mezzo al campo e poi c'è il momento propizio di Simeone che realizza il terzo gol consecutivo annullato e poi convalidato con il Varo. Il Granata sembrano andare a piccolo sulla conclusione chirurgica di Nainggolan ma hanno la forza di reagire e Bremer riapre la speranza. La difesa zona dei Sardi si dimentica incredibilmente di Belotti che non fallisce il 3-2. Solo pochi istanti però è in cui Lussi macchia del fallo da rigore su Pellegrini. Implagabile è Joao Pedro che firma la sua rete numero 17. Rosso Blu accota il 38 insieme al Verona mentre il Toro deve stare attento al calendario che propone Lazio, Juventus e Inter a distanza ravvicinata. Era l'ultimo servizio di questa edizione. Come sempre domattina alle 7 ritorna l'informazione. Sulla 7 arrivederci e buonanotte. A presto.